Bene, eccoci insieme anche oggi. A questo punto siamo a presentare il calendario più strano, devo dire, che probabilmente esiste nel nostro paese, perché il calendario che dice ad anno iniziato, questo per tradizione, forse quest'anno anche un pochino più in là. Eh, purtroppo sì, però siamo usciti, l'importante è uscire dopo 14 anni e siamo ancora qui. Il nostro ospite è Paolo Breghetto, collega giornalista, un po' in questa versione un po' modì. Versione sì, esatto, primo anno con la barba, devo dire. Uno anno con la barba e art director di questo, che è il calendario delle bellezze venete, naturalmente 2020. Certo. Quattordicesima edizione e diciamo subito all'inizio a chi va il ricavato, perché c'è sempre una onlus che viene benedita. La barba di quest'anno va ad una onlus padovana, una di quelle magari meno conosciute, che comunque hanno bisogno di, come dire, anche questi di visibilità, e giustamente quando si può fare qualcosa, nel nostro caso lo facciamo, è la DAD Onlus, dove DAD sta per disabili, anziani e disoccupati, tutte persone che possono o purtroppo finiscono ai margini della società, per le loro condizioni, e allora ci sono questi progetti di recupero per farli reintegrare nel tessuto sociale, tramite, non so, iniziative come le squadre di calcetto o altre cose, che appunto servono a farli tornare vivi, persone che devono giustamente sentirsi comunque membri di una società. Io trovo che sia un progetto valido, sono dei ragazzi che conosco anche bene, devo dire, e che si danno da fare. Sono andati anche con alcuni di questi a Milanello, a vedere gli allenamenti della Sampdoria, anche una partita, insomma cercano veramente di farli sentire importanti, cose che giustamente sono, come tutti noi, cioè se uno perde lavoro, se uno sta male fisicamente, non è che per questo deve essere allontanato, giusto? Certo, intanto abbiamo visto passare un po' di bellezze venete, dicevamo 14esima edizione, abbiamo il piacere e l'orgoglio, bisogna dire, averle presentate tutte 14, e ormai, insomma, dopo questa esperienza, il calendario è in qualche maniera anche un po' la fotografia del Veneto. E' un piccolo must, perché effettivamente devo dire che dopo 14 anni essere ancora qua, è un onere e un onore, ecco, ogni anno facciamo sempre più fatica, però, e ringrazio anche tutto il mio staff di collaboratori, di cui sono solo, come dire, il frontman. E anche gli sponsor. Ecco, e ovviamente i miei partner, che sono sempre più rari, però quegli storici mi sostengono, sempre li ringrazio. No, devo dire che comunque è un lavoro sempre fatto con l'idea anche un po' di rinnovarsi, tipo, vedo adesso una foto molto particolare che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo messo delle ragazze che fanno dei mestieri, che fanno degli sport particolari, abbiamo la campionessa di patinaggio, abbiamo la tifosa di calcio, che in realtà è una delle tifose VIP della Juve, questa, proprio in un elenco ufficiale, che è stato, abbiamo l'ombrellina, appunto perché esistono anche le ragazze appassionate di motociclismo, e soprattutto abbiamo, e penso che le rivedremo, una ragazza che fa tessuti aerei, questa danza, no? Ecrobata. Eh, questa sorta, esatto, di acrobazia circense, appunto, si richiamano anche danza aerea, per cui vengono appese a queste grandi corde o tessuti, e fanno delle evoluzioni, ed è stata una foto veramente difficile da fare, di cui sono molto contento, molto fiero, una foto diversa dal solito. Volevo dire che, appunto, dopo 14 anni, questa è anche una fotografia un po' del sentiment che c'è nel Veneto. I calendari sono sempre stati caratterizzati dal buon gusto, mi pare che quest'anno siano un pochino piose rispetto ad alcune edizioni più castigate degli anni scorsi. Ma, devo dire, forse c'è la foto della ragazza con l'intimo sotto e la pelliccia sopra, che è quella di febbraio, che colpisce molto, però in generale tu sai che sono sempre foto mai volgari, eccola qui. Sì, certo, non mai, dico. Ad esempio, questa foto qua, colgo l'occasione. Un po' più di peperoncino, per dire, forse c'è un po' più di frizzantino nel Veneto. Ma, allora, sicuramente le ragazze hanno posato volentieri, tu sai che ogni volta che facciamo queste foto professionali, perché cerchiamo di metterci tutto quello che si può fare, facciamo i cambi di abito e poi decidiamo a posteriori qual è la foto che ci piace di più, mese per mese. Le foto, ad esempio, come quella di marzo, che hai tu davanti a te, visto che è il mese... Ecco qua, questo è il mese di marzo. ...in cui stiamo uscendo in tv. Questa è una foto dove la ragazza è in costume, devo dire che sta anche molto bene questo costume. Peraltro è stata una finalista dei Miss Italia, quindi il fisico ce l'ha. Ma, soprattutto, si vedono anche, in questo caso, delle opere di un artista padovano, che si chiama Marco Bellavere, appunto perché abbiamo cercato di unire la bellezza delle ragazze anche alla bellezza, magari, di qualche opera artistica fatta, comunque, nel territorio, da Veneti per i Veneti. Il vostro casting dura settimane, se non mesi? Il casting è sempre aperto online, a livello pratico, diciamo che viene fatto dopo l'estate, sono venute anche quest'anno molte ragazze, anzi, devo dire che in un casting in particolare, che abbiamo effettuato in centro a Padova e in Corso Milano, in uno dei nostri partner storici, sono venute tante ragazze, ma tanta gente poi si è interessata a questo casting, tanto che il filmato, il video, in internet, su YouTube, ha raggiunto oltre i 130 mila visualizzazioni. Quindi, insomma, è anche bello vedere e capire che piace questa cosa, che perlomeno crea interesse. Esatto, il bello piace sempre. Come hai detto bene, questi casting sono fatti tutti gli anni per trovare le ragazze di tutta la regione. Ce l'avete fatta quest'anno, perché qualche anno manca qualche provincia. La Bellumat non c'è niente, quelle di Belluno ci proviamo. Anche l'anno scorso mancava quella di Belluno. Sì, sì, quella di Belluno si fa fatica. Sì, che ci sono le studentesse, come dire, fuori porta. Sono più timide. Però o sono più timide, oppure sì, forse non sono avvezze o non lo so. I casting ci sono, alcune vengono anche contattate, come per dire, cioè, nel senso, se sei interessata vieni, cioè ti aspettiamo, e poi ci sono quelle che dicono che vengono e poi non vengono. La parte, cioè, come dire, le ragazze che invece rispondono sempre di più, quindi la parte del Veneto, che è sempre presente nel calendario, sono le veneziane. Anche quest'anno sono il numero maggiore. C'è la tradizione delle Marie. Esatto, non a caso. Questa ragazza qui proprio che stiamo vedendo, in questo momento Giulia, è stata scelta tra le 12 Marie di quest'anno, e anzi, le auguro grande fortuna, perché se la merita. Parlando di donne non si dovrebbe dire, età media però, perché anche qua ci sono gli anni in cui avete privilegiato le fasce più basse, poi vi siete allargati, anche le mamme negli anni sbossi. Hai ragione, hai ragione. La forbice dovrebbe essere 18-30. Quest'anno l'abbiamo rispettata perché abbiamo le neomaggiorenni, come anche ragazze di 27-28 anni, che stanno tutte splendidamente bene insieme, e anche nella foto di gruppo non si vede tanta differenza di età. Sicuramente ognuno ha il suo fisico, sono tutte ragazze diverse, appunto, perché la mia idea è di rappresentare il panel, appunto, della bellezza veneta. Quindi, come si può vedere, insomma, ci sono le bionde, le more, sono quelle più o meno anche formose, però sono tutte ragazze. Ecco, questa ad esempio è una ragazza, colgo l'occasione, che è una tra le più grandi celle, che fa la commessa in un negozio, perché ognuna di loro, poi, oltre ad essere alcune laureate o comunque ancora studentesse, molte sono anche lavoratrici e hanno anche rubato un po' di tempo al loro lavoro per poter venire da noi e, appunto, essere prima selezionate e poi posare per la foto. Quest'anno c'è un mese in più come altre volte? C'è sempre il mese bonus. Fatalità è proprio quello di questa ragazza, Ilenia, che abbiamo appena visto immortalata con gli occhiali. Sì, perché uscendo a gennaio, almeno 12 mesi buoni bisogna averli e non c'è poi l'incubo di dover girare il 31 dicembre il calendario e trovarsi senza giorno, col mese vuoto, ecco. Le foto di coppia sono state abolite quest'anno? No, ce n'è una e anche molto, molto bella. Sì, forse, comunque sicuramente ripasserà. Sono due reginette di bellezza, anzi una in realtà è proprio la coroncina, che le viene messa come se fosse quasi un passaggio di testimone dalla socia. Sono due sorte di vellina, ecco, bionda, mora, che quando le ho viste, eccole qua, quando le ho viste ho detto voi state bene assieme, sicuramente. Sono due ragazze che arrivano dal veneziano, anche queste, e ci sono anche i nomi, Greta e Serena, appunto, così le saluto. Mentre invece mi pare che siano stati aboliti maschi, che c'è stato un paio di anni in cui si è detto, vediamo di accontentare anche le ragazze con qualche bel maschietto. In realtà, questo va a merito delle donne, le donne sanno apprezzarsi anche fra di loro. Sì, allora, bravissimo. Allora, devo dire che anche delle nostre colleghe, tu sai che le giornaliste sono abbastanza attente e critiche, che hanno visto il calendario, hanno detto che secondo loro è uno dei migliori di sempre, anche proprio come scelta di ragazze, quindi anche esteticamente hanno gradito. E tornando invece ai maschietti, anche quest'anno si era fatto avanti qualcuno, perché hanno visto, appunto, che nelle edizioni precedenti c'era, c'era stato, appunto, nella foto di coppia sempre, non un maschio da solo, maschio e femmina. E ci avevamo pensato, però, per il momento è un calendario al femminile. Non si sa mai, non si sa mai. Ormai, dopo 14 anni di esperienza, Paolo Varghetto si è fatto anche, devo dire, un certo gusto estetico, evidentemente. Le giovani generazioni, dal punto di vista fisico, della bellezza, rispetto alle precedenti, come le potremmo, in qualche maniera, qualificare? C'è da dire che l'età media, anche delle ragazze che presentano i concorsi, è sempre più bassa. Arrivano delle ragazze, io vedo anche perché vado nel giro dei concorsi, qualche volta li presento, ma anche i casting stessi, devo dire la verità, vengono anche ragazze minorenni, sempre accompagnate, ovviamente, dai genitori, che devono, nel caso, filmare, in ogni caso, loro, la liberatoria. E sono ragazze che tu non diresti mai che hanno quell'età là, perché... Molto sviluppate. O c'è uno sviluppo precoce, oppure, sai, adesso anche il trucco e il parrucco, come dire, aiuta, e anche il modo di vestirsi è diverso rispetto a una volta, e quindi un po', come dire, mascherano, capito, la loro vera identità. Però mi pare che il modello filiforme non sia più di moda. No, anzi, io, ecco, bravo, secondo me è giusto che non sia più di moda, e anzi, quest'anno ho cercato di privilegiare, appunto, le ragazze che avevano le curve, ragazze, possibilmente, non rifatte, anche se ce n'è qualcuna che si è presentata ai casting, che effettivamente qualche... Quale ritocchino. ...l'aveva fatto, e ormai anche quella è una realtà, non si può certo dire niente, insomma, chi vuole lo fa. Queste sono le foto, scusa, le immagini della presentazione, è quel momento proprio dell'unvealing, come si dice, no? Qui viene svelato per la prima volta alle ragazze il calendario, e nessuna di loro l'aveva ancora visto. Eh, che cerimonia! È proprio una cerimonia a cui tengo parecchio, cerco veramente di non far uscire nessuno scatto in precedenza, sì, e quindi tutte vengono a scoprire in quel momento qual è il loro mese e dopo, appunto, c'è la presentazione, diciamo, ufficiale, con tanto di red carpet al pubblico e c'è anche un già il video online, nessuno lo va a cercare su YouTube. E adesso inizierà, come buona abitudine, il tour. Il tour è già iniziato, se posso dire due cose importanti? In velocità che devo chiudere? Allora, innanzitutto la nuova grafica, che si può vincere già da questa copertina molto bella e anche un po' intrigante, è sempre di Mimo Cesareo, il mio grafico storico, che ringrazio, e poi i cinque fotografi, perché senza di loro io non potevo fare niente, anzi, vado proprio a leggerli per non sbagliare, sono Mario Bonesi, Nicola Burigel, cerco di andare in ordine alfabetico, Dan Iancu, fotografo professionista molto bravo anche di moda, Andrea Rigon e Nicolò Noventa. Loro cinque si sono messi a disposizione e devo dire che ognuno di loro ha dato un suo stile e anche questo è un modo per far vedere qualcosa di diverso dagli anni passati. Grazie, adesso l'appuntamento è a Bellezza Veneta in tournée. Con noi c'è stato Paolo Breghetto, che è l'Art Director, nonché ideatore, insomma, da 14 anni del calendario delle bellezze venete. E per sapere tutto bellezzavenete.com Grazie, alla prossima. Grazie, ciao. Grazie. 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 Grazie.